Allora, questo spettacolo nasce da un'esigenza profondamente mia, personale, di riavvicinarmi alla terra che avevo lasciato per poter fare questo lavoro, per poter fare teatro, che è il Salento e il Lecce. Dopo 15 anni di distanza cercavo un modo per raccontarla, per appunto e riaccostarmi e ho pensato che forse lo sguardo di chi l'aveva dovuta lasciare per forza, per l'assenza di lavoro, di denaro per sopravvivere, forse era lo sguardo più interessante perché era uno sguardo non miope né presbite, era la distanza sufficiente per raccontare questa terra. E così ho cominciato a raccogliere delle testimonianze sul campo con un metodo che ormai è usato da tanti altri. La differenza che riscontro è nell'aver lavorato in coppia con Nicola Bonazzi, il quale ha dato alla scrittura una forza nuova, soprattutto adottando un personaggio che ha una prerogativa fondamentale, lavora sulla menzogna. Mentre di solito il teatro di incontrazione o nel teatro di impegno civile è fondato sul ricostruire una verità, in questo caso la scelta è stata di fondare tutto sulla menzogna, dalla menzogna autobiografica. Io all'inizio dello spettacolo racconterò dei miei viaggi veri su questi treni pieni di migranti quando avevo dieci anni da solo e lì le menzogne si sprecavano perché raccontavo una vita che non vivevo proprio perché forse non avrei visto più quelle persone in vita mia. Al fatto che il postino, che è il personaggio principale dello spettacolo, che regge tutto il racconto, è un personaggio che per scelta morale decide di omettere le notizie che arrivavano all'interno delle lettere scritte dagli emigranti per salvaguardare la comunità che era rimasta a casa, cioè le donne, i figli e i genitori. E quindi questo potrebbe forse avere a gettare una luce diversa su questo lavoro proprio perché l'esigenza fondamentale non era, e spero che sia restato tale, non era ricostruire la storia dell'emigrazione. Mi interessava poco, insomma, mi interessava di più recuperare il rapporto con la mia terra. Poi per un caso questa scelta coincide anche con una ricostruzione storica, coincide con qualcosa che si può chiamare impegno civile, però la cosa che mi interessa segnalarvi è proprio questa, che c'era un'esigenza personale molto più profonda e questo è un parere assolutamente personale e credo che il teatro debba partire sempre da questo. Grazie.